A volte è solo un nome. Dove l'ho sentito quel nome? Ti chiedi. Ma poi non ci fai più caso. È solo un nome che ti riporta alla mente qualcosa, ma non ti ricordi. Ma in certi casi un nome può suggerire il ricordo di qualcosa di brutto e allora anche quel nome ti suona brutto. Un nome che torna una, due, forse tre volte nelle cronache dei giornali e significa sempre e solo la stessa cosa. Terrore. Sono Black Pranin e racconto Storie Nere. Domenica 13 novembre 1988. Poco prima ci sono state le elezioni presidenziali negli Stati Uniti. George W. Bush è il quarantunesimo presidente. Al cinema danno un nuovo cinema paradiso di tornatore. Alla radio passa One Moment in Time di Whitney Houston. Siamo a Motta di Livenza, vicino a Treviso. Qui, nel marzo del 2005, nel Duomo, una bomber porterà a compimento un nuovo attentato nel quale rimarranno ferite una bambina e una giovane donna. La discoteca Finimondo di Motta di Livenza, domenica 13 novembre 1988, è piena di gente. Ragazzi e ragazze che passano qualche ora a ballare prima di tornare alla monotonia della nuova settimana. Arianna ha 17 anni, è bella, alta, slanciata, porta i capelli corti e biondissimi, come li aveva Madonna l'anno prima durante il suo tour in Italia. È la figlia di una maestra elementare e di un ex professore diventato poi imprenditore edile. E i suoi genitori sono separati. Arianna ama ballare e al Finimondo ci va spesso. Prima di uscire si è preparata con cura. I capelli, gli orecchini, il rossetto. Intorno a Luna i suoi amici l'hanno vista uscire dal locale e poi rientrare una ventina di minuti dopo. All'uscita Arianna non c'è. Forse qualcuno le ha dato un passaggio, pensano. È tardi e nella villetta di via Arno sua madre e i fratelli notano che la ragazza non è ancora rientrata. Questo ritardo però inizia a preoccupare la sua famiglia perché se tardava anche di poco, Arianna era solita telefonare a casa per avvisare, ma quella sera le ore passano e non arriva nessuna chiamata. La tensione sale e quando si tramuta in angoscia la famiglia decide di sporgere denuncia di scomparsa. Arianna non se ne può essere andata via con qualcuno volontariamente senza dare più sue notizie. Si confidava con la sorella più grande di due anni e mai le aveva raccontato qualche particolare che potesse far pensare che voleva scappare con qualcuno per andare chissà dove. La notizia della scomparsa di Arianna si diffonde tra gli amici che si organizzano per cercarla ma quelle ricerche non porteranno a nulla. La sera di domenica chi era con Arianna in discoteca la descrive come al solito. Era allegra, tranquilla, poi l'avevano vista uscire dal locale con un ragazzo. Erano rimasti fuori insieme per una ventina di minuti, poi lei era rientrata, aveva ballato di nuovo fino all'una e mezza, poi era uscita evidentemente perché in discoteca sono rimasti il suo cappotto e la sua borsa. Da quel momento Arianna è svanita nel nulla. Il ragazzo con cui è stata vista Arianna lo conosce bene. Si sono conosciuti nell'85 quando lui aveva 18 anni e lei 14. Sono stati insieme un paio di mesi poi si sono lasciati. Lui si chiama Igor Maronese, ha 21 anni. È figlio di un camionista e lavora come elettricista. Vive a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Igor viene sentito, gli chiedono di raccontare gli ultimi momenti in cui ha visto Arianna in discoteca. La polizia, i carabinieri, la famiglia, tutti gli amici di Arianna la cercano ovunque e cercano soprattutto di capire il motivo di quella scomparsa. L'ex fidanzato racconta che dopo essere usciti dalla discoteca intorno all'una avevano fatto un giro veloce sulla sua auto, allontanandosi di pochissimo, però poi l'aveva riaccompagnata nel locale perché il mattino seguente lui doveva andare al lavoro e doveva alzarsi alle sei. A non essere affatto convinto di questo racconto però è il commissario di polizia Giuseppe Mauceri che dopo aver battuto tutta la zona inutilmente con i colleghi e i vigili del fuoco per l'intera settimana decide di interrogare Igor di nuovo. Negli uffici del commissariato di Portogruaro inizia un interrogatorio che durerà ben più di tre ore. Dopo aver ripetuto ennesimamente la stessa storia riguardo quelle poche centinaia di metri che avrebbe percorso in auto con la ragazza per poi riaccompagnarla al locale Igor Maranesi scoppia a piangere e ammette una terribile verità. È stato lui, lui che aveva anche partecipato alle ricerche. L'ha uccisa, sì sono stato io, l'ho uccisa perché non voleva concedersi a me. Dopo aver ucciso Arianna Igor è tornato a casa, il mattino dopo alle sei si è alzato ed è andato al lavoro. All'alba di domenica, dopo una settimana dalla scomparsa di Arianna, Igor Maronese accompagna i poliziotti in riva a Livenza, il fiume che scorre tra le province di Treviso e Venezia dove ha abbandonato il corpo della ragazza. Sarà il vicequestore di Venezia Luciano Cannavarozzo durante una conferenza stampa a fornire una prima ricostruzione del delitto. Igor e Arianna sono usciti insieme dal locale e con l'auto di lui sono andati poco lontano sull'argine dell'Livenza, a Sant'Anastasio di Cesalto. Qui lui ha tentato un approccio ma lei si è ribellata. L'ha strangolata. Poi ha abusato di lei e ha gettato il corpo nel fiume. Il corpo di Arianna è rimasto impigliato tra i rami e il fango. Igor Maronese viene accusato di omicidio volontario, atti osceni in luogo pubblico e occultamento di cadavere e verrà interrogato dal sostituto procuratore di Treviso Gianni Cicero. Come accadeva spesso quando si trattava di casi riguardanti giovani donne, i giornali sono stati impietosi nei confronti di Arianna, insinuando che dietro l'apparenza di una ragazza di 17 anni come tante altre ci fosse in realtà una sorta di mangiatrice di uomini, una ragazza troppo smaliziata, una facile insomma, quanto riportano i giornali agghiacciante. Leggo testualmente. Arianna aveva i genitori separati, era timida e spesso si mascherava da femme fatale. E ancora. Arianna non era Maria Goretti. A 17 anni aveva avuto troppi ragazzi e troppa voglia disperata di vivere. Non era Maria Goretti, dicono di lei i giornali. Aveva avuto troppi ragazzi. Come se questo potesse togliere un po' di gravità a ciò che le è stato fatto. E altrettanto terribili sono le parole usate da Maronese per parlare della ragazza. Era sempre una cuccata sicura. Lo ha detto allo psichiatra che lo stava ascoltando. Dunque Igor Maronese quella sera era convinto di poter ottenere da Arianna ciò che voleva. Ma quella sera lei aveva detto di no. Allora lui le aveva stretto le mani intorno al collo. Solo che aveva stretto troppo e lei era morta. Dopo averla uccisa, l'ha spogliata. L'ha trascinata fuori dalla macchina. Era stesa sull'erba. Arianna è stata abusata quando era già morta. Il racconto di Maronese è agghiacciante. Volevo stare con lei, racconterà al giudice Giancarlo Stiz. Ma improvvisamente ci stava solo per i baci. Quando l'ho toccata mi ha respinto. Mi ha detto che pochi giorni prima aveva dovuto abortire e che il figlio era mio. Io la volevo e le ho stretto il collo. Ma non mi ricordo, non volevo ucciderla. Non mi ricordo cosa ho fatto dopo. Allo psichiatra. Maronese ha dichiarato. Arianna era una ragazza difficile, depressa, che non aveva il coraggio di guardare la gente in faccia. Mi interessava, ma lei non sapeva vivere, non sapeva cosa voleva fare. Era una stronza. Non l'ho mai vista a pimpante, felice, era sempre triste. Io invece sono un festaiolo. Mi piace divertirmi, ballare sui cubi come i negri, specie quando ho bevuto. Mi ha detto che pochi giorni prima aveva abortito. Ricordo che me lo disse appena usciti dalla discoteca. La cosa mi sconvolse perché quella creatura avrebbe potuto essere mia. Poi mi respinse e mi rimproverò di essere uno che pensa solo a cuccare. Un affronto che uno come lui non poteva perdonare. Il 24 maggio 1989, inizia il processo con rito abbreviato. I giornali pubblicano alcune immagini di Maronese nell'aula del Palazzo di Giustizia di Treviso. È un po' abbronzato, porta un paio di occhiali dai vetri fumè. In aula ci sono i genitori di Igor e quelli di Arianna insieme ai fratelli. Igor Maronese è stato sottoposto a perizia psichiatrica e dichiarato capace di intendere e di volere. Per lo psichiatra, Maronese è un giovane immerso in un erotismo di bassa lega, senza rispetto per sé e per gli altri. Il principio del piacere e lo stereotipo del macio sovrastano e dominano tutta la sua vita. Nella perizia, lo psichiatra ha aggiunto che Maronese non manifesti alcun segno di pentimento per quanto ha fatto. Viene letta la descrizione che ha fatto di sé durante il colloquio con lo psichiatra. Non sono religioso, non ho idee politiche, non leggo i giornali, non guardo la televisione, non pratico alcuno sport, ma leggo solo lancio storie. Nella vita, come scrivono i giornali, l'unica cosa che gli interessa è arraffare tutte le donne che gli capitano a tiro. Mi piacciono le ragazze stronze, bionde, alte, col sedere ben fatto. Quando le lasciavo piangevano e mi dicevano che ero cattivo, che volevo sempre fare il padrone. Quando gli hanno chiesto che cosa ricordasse di quella sera, Maronese risponde. Poche cose, solo frammenti, cioè vedo l'immagine del suo viso e io sopra. Non so che cosa mi sia successo, ma non ero nel pieno delle mie facoltà. Il 25 maggio del 1989 arriva la sentenza. Quando il presidente legge il verdetto, Igor non solleva neanche la testa. Non una lacrima, nessun minimo cenno di rimorso. La corte di assise di Treviso condanna Igor Maronese a 12 anni e mezzo di carcere. Solo 12 anni e mezzo, perché i giudici credono alla tesi dell'omicidio preterintenzionale e viene meno dunque l'accusa di omicidio volontario. Nel 1996, dopo quattro anni e mezzo, Maronese inizia a godere di permessi e torna per i tre anni successivi in cella soltanto per dormire. Viene affidato ai servizi sociali. È giovane, dicono, ha tutte le possibilità per riscattarsi e ricostruirsi un'esistenza pulita. Per i familiari di Arianna, quella condanna per omicidio preterintenzionale e non volontario era già stata un colpo basso. È ora sapere che dopo quattro anni e sei mesi la persona che ha ucciso Arianna può tornare a rifarsi una vita è inaccettabile. La mamma di Arianna è morta tre anni dopo quella sentenza. La sorella della ragazza racconta alla stampa. Me lo ricordo quel giorno. Mi avvertirono degli amici, mi dissero, guarda che Igor è già uscito. E io all'inizio non ci credetti, ma era vero. Igor camminava per le strade, andava dove voleva, tornava in carcere solo di notte. Dopo quattro anni e mezzo, l'uomo che ha ucciso e poi ha profanato il corpo di mia sorella, che aveva solo 17 anni, se ne andava in giro di nuovo per il paese. E dopo sette anni poteva andare a dormire dove gli pareva, perché la pena era finita. Una sentenza vergognosa che ha permesso a quell'uomo che ha ucciso per fare violenza su una minorenne di uscire dopo quattro anni e sei mesi di carcere. La sorella di Arianna non vuole ricordare parla fatica. Non vuole ricordare soprattutto quei giorni tremendi, giorni e notti vissuti con il cuore in gola, quando le dicevano che sua sorella era scappata di casa, ma lei sapeva che non era possibile. In quelle notti terribili, non appena la stanchezza l'aveva vinta su di lei per poco, aveva degli incubi premonitori che la facevano svegliare di soprassalto, come se sentisse che sua sorella non c'era più. Io a Sanstino non ci sono più potuta andare, non ce la faccio ancora adesso. Non potrò mai dimenticare che mentre mia mamma pregava per la famiglia dell'assassino di sua figlia, a noi nessuno ha dato né una mano né un sorriso. Ci siamo indebitati per pagare l'avvocato quasi fossimo noi a doverci difendere. Mentre lui si limitava a dire non ricordo e a sorridere al momento della condanna. È il 18 luglio del 2003, il giorno della morte di Sandro Ciotti. In radio si sente un tormentone estivo, la canzone del capitano di DJ Francesco e gocce di memoria di Giorgia. Al cinema c'è Io non ho paura di Salvatores. Ad Annone Veneto fa molto caldo. In un appartamento di un palazzo di via Postumia vive una giovane coppia. Lui ha 39 anni, lei 33. Lavorano insieme. Hanno un ristorante dove lei fa la cuoca. È notte fonda e stanno dormendo. La finestra del loro balcone al quarto piano è aperta. È l'unico modo per poter riposare un po' vista l'afa. Ogni tanto da quella finestra passa un filo d'aria che smuove la cappa di calore di luglio. Nonostante il sonno si ha quasi la sensazione di percepire quando per fortuna un po' d'aria ti regala qualche attimo di tregua nel caldo di quella notte. È buio e tutto succede in una manciata di secondi. La coppia viene svegliata dalle urla di un uomo che intima al padrone di casa di dargli tutti i soldi che ha. Altrimenti violenterà sua moglie. Il 39enne padrone di casa cerca disperatamente di mantenere un tono pacato e spiega a quell'uomo che in casa di contanti non ne ha. Ma quello insiste. Vuole i soldi. Diventa ancora più furioso. Prende un ferro da stiro che trova lì vicino e inizia a colpire. L'uomo tenta disperatamente di parare il colpo e viene ferito alla nuca. Inizia a perdere molto sangue. La moglie urla disperata. L'intruso le tira un pugno in faccia. A questo punto tra i due uomini inizia una lotta furibonda. È a quel punto che la donna riesce a fuggire. Apre la porta di casa, grida, chiede aiuto ma non arriva nessuno. Così decide che deve fare qualcosa. Anche perché nel frattempo l'intruso stringe le mani sempre più forte intorno al collo di suo marito che è paonazzo e non ce la fa più a difendersi. La donna trova un grosso cacciavite a stella e inizia a colpire quell'uomo ai fianchi e alla schiena. Quei colpi lo costringono ad allentare la presa e i due approfittano di quel momento per scappare via. Ma prima chiudono quel pazzo nel loro appartamento a chiave. Scappano fuori e si chiudono nella loro auto mentre aspettano i carabinieri chiamati dai vicini di casa. È stato tutto assurdo. Nel cuore della notte si sono ritrovati un intruso dentro casa. Un intruso in mutande e canottiera. Un quando i carabinieri arrivano in casa della coppia aggredita non trovano nessuno. Così come era entrato. Quel tizio se n'era andato. Intorno alle quattro del mattino. Igor Maronese ha scavalcato il davanzale della sua finestra al quarto piano e incredibilmente ha percorso un paio di metri appoggiandosi con le mani ad un cornicione. Poi è riuscito ad arrivare alla finestra dalla quale è entrato nell'appartamento della coppia. Per fuggire si è calato sul balcone dell'inquilino del piano di sotto che stava dormendo con il balcone aperto e non si è accorto che l'uomo è entrato in casa per poi fuggire dalla porta d'ingresso. Maronese viene subito individuato dai carabinieri portato in caserma. Probabilmente nessuno in quello stabile ne conosceva il passato. Lui arrivava, parcheggiava il suo camion sul piazzale davanti al condominio e andava a casa. Quel lavoro da camionista. Io lo avevano trovato gli assistenti sociali ai quali era stato affidato nel 1996. Uscito dal carcere definitivamente, Igor Maronese era andato a vivere ad Annone Veneto dove non lo conosceva nessuno. Il giorno dopo quella tremenda aggressione, la coppia aggredita da Maronese rilascia alcune dichiarazioni alla tribuna di Treviso. Non torneremo mai più in quell'appartamento di Annone. Siamo arrabbiati con tutti, anche con voi giornalisti. Siamo delusi da una società che protegge il criminale con l'anonimato e lascia indifesi i cittadini. Se avessimo saputo che un elemento così pericoloso abitava vicino a noi, avremmo preso qualche precauzione. Stavamo dormendo quando quell'uomo si è gettato sul letto colpendo mio marito con il ferro da stiro. Non mi sono subito resa conto di quanto stesse accadendo perché aveva dell'incredibile. Quell'uomo si è introdotto in mutande e canottiera nella nostra camera. Dopo avermi colpita con un pugno stava tentando di uccidere mio marito. L'uomo continua. Anche io ho piecchiato duro. È incredibile che con il calcio al basso ventre che gli ho tirato, lui non abbia aperto nemmeno la bocca. Sembrava insensibile ai colpi. rivedo i suoi occhi sbarrati, stralunati, la bocca sempre aperta, pronta a mordermi ovunque. La mano destra di quest'uomo sembra sia stata morsicata da un Doberman. Invece è stato lui, Igor. Maronese era arrivato a Dannone Veneto nel 2001 con una compagna più giovane e aveva preso quell'appartamento in affitto, poi aveva iniziato a fare il camionista. Il parroco e il sindaco Elio Verona, forse gli unici due a conoscere la vera indole del giovane, lo avevano tenuto sotto osservazione. Il sindaco racconta. L'ho visto più volte girare per la piazza, sempre solo, senza una particolare destinazione, sempre assorto nei suoi pensieri. Non ero tranquillo, l'ho detto, ma inutilmente. Purtroppo adesso mi tocca scoprire che le mie perplessità erano giustificate. Il 21 luglio del 2003, Igor Maronese compare davanti al giudice Stefano Manduzio nel carcere di Santa Maria Maggiore. Il pubblico ministero Francesco Saverio Pavone ha chiesto la convalida dell'arresto con pesanti accuse. Tentato omicidio, violenza sessuale e violazione di domicilio. Dopo aver colpito il marito col ferro da stiro, avrebbe tentato di abusare della donna, ma lei ha cominciato ad urlare. Secondo il giudice, nonostante la violenza sessuale non si sia portata a compimento, il tentativo è comunque sufficiente per contestarne il reato. Il difensore di Maronese sicuramente contesterà questa interpretazione e anche l'accusa di omicidio. Ma la profonda ferita alla testa dell'uomo, che ha ricevuto 16 punti di sutura, e la testimonianza della donna che ha raccontato di aver visto Maronese tentare di strangolare il suo compagno, sono sufficienti a dimostrare che l'aggressione era tesa ad ucciderli. Maronese si giustifica dicendo di essere stato ubriaco, dice di non essersi reso conto di ciò che stava facendo. Al giudice racconta di non aver avuto alcun motivo per aggredire i vicini, di non provare nessun sentimento di odio nei loro confronti. Maronese sostiene che ad aver avuto la peggio sarebbe stato lui, ferito con un cacciavite. Dice di aver saltato da una terrazza all'altra, cosa che faceva spesso per sfida, per fare una bravata. Poi aveva visto la finestra aperta per il caldo ed era entrato. E il suo racconto prende una piega assurda. Dice che in realtà voleva soltanto uscire dalla porta e andarsene. Ma è inciampato nel letto, cadendo sulla donna, che a quel punto si è svegliata e ha urlato. A quel punto dice di aver cercato semplicemente di difendersi perché la signora e il marito hanno iniziato a picchiarlo. Ha dichiarato di aver lanciato contro quell'uomo il ferro da stiro perché è stata la prima cosa che gli era capitata tra le mani. Insomma, ha raccontato che non voleva né rapinare né violentare né tantomeno uccidere. Che era ubriaco fradicio e che dopo essere fuggito in mezzo ai campi si è consegnato lui al comandante della stazione dei carabinieri di Annone. Maronese viene trattenuto in carcere. Il 13 agosto 2003 il pubblico ministero Francesco Saverio Pavone chiede di contestargli il tentato omicidio che invece il giudice delle indagini preliminari Stefano Manduzio ha ritenuto inesistente. Dunque il tentato omicidio per il tribunale del riesame non sussisterebbe ma la violenza sessuale sì. Gli avvocati difensori Andrea Angeletti e Degno della Gaspera si sono opposti alla richiesta del rappresentante della procura sostenendo che Maronese quella notte è entrato nella camera da letto dei coniugi soltanto perché aveva assunto cocaina e bevuto super alcolici ma non aveva nessuna intenzione di approfittare della signora né tantomeno di uccidere il marito. Il 14 agosto l'accusa di tentato omicidio viene rigettata e il giudice Manduzio gli contesta soltanto i reati di lesioni aggravate e violazione di domicilio. Il rappresentante dell'accusa allora presenta appello al tribunale del riesame che è presieduto dal giudice Antonio Liguori e gli dà parzialmente ragione emettendo un'ordinanza di custodia cautelare per violenza sessuale ma non per tentato omicidio. Il 18 ottobre Maronese viene scarcerato per la scadenza dei termini di carcerazione preventiva prevista per i reati di violazione di domicilio e lesioni. Rimarrà libero soltanto per pochi giorni. Sembra che alla luce di nuovi indizi verrà riconsiderata l'accusa di tentato omicidio. Il sostituto procuratore Francesco Saverio Pavone chiude le indagini e chiede il rinvio a giudizio per tentato omicidio, violenza sessuale, lesioni e violazioni di domicilio. Il processo nei confronti di Maronese inizia il 23 marzo del 2004. L'unica richiesta accolta dal pubblico ministero Pavone è quella del rito abbreviato. Viene sottoposto ad una perizia psichiatrica e dichiarato nuovamente capace di intendere e di volere. Maronese viene condannato a dieci anni di reclusione per i reati di tentata violenza sessuale, violazione di domicilio e tentato omicidio nei confronti della coppia. Nel gennaio del 2005 l'abitazione di proprietà di Maronese che ora ha 35 anni viene sottoposta a pignoramento su istanza dei legali delle vittime, primo passo che porterà alla vendita all'asta di quell'appartamento. La prima sezione della Corte di Venezia ha condannato Maronese a risarcire 150.000 euro a ciascuna delle due parti offese e l'unico modo di ottenere quel risarcimento è chiedere al giudice la vendita dell'immobile. A metà marzo del 2006, ai dieci anni di carcere, si aggiunge un mese di reclusione per lesioni gravissime. Infatti, durante l'aggressione alla coppia, Maronese aveva morsicato il padrone di casa, trasmettendogli l'epatite virale. È il 2018. È il nome di Igor Maronese. Ricompare citato in una nuova condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione e all'interdizione dei pubblici uffici per cinque anni in un processo per falsa testimonianza per una pavimentazione realizzata nel 2012 da suo padre e da un altro imputato cinquantottenne. Mi auguro che questa volta si tratti di un caso di omonimia.